Treni vetusti accesi 24 ore su 24 di fronte ai palazzi che rendono l'aria irrespirabile, creando quindi inquinamento ambientale ed acustico. E quanto denunciano alcuni residenti del viale della stazione di Sulmona, che all'indomani dell'inaugurazione della stazione innovativa e senza barriere architettoniche, lamentano la permanenza di un annoso riservizio che è stato segnalato più volte. A marzo 2014, gli stessi abitanti del quartiere avviarono una petizione che fu consegnata nelle mani della loro sindaco Peppino Ranalli per incalzare RFI a porre fine a un problema che va avanti da tempo. Nessuno fa notare i disagi che giornalmente FS crea gli abitanti dei palazzi in zona stazione. Treni vetusti accesi 24 ore su 24 di fronte ai nostri palazzi che rendono l'aria irrespirabile, creando quindi inquinamento ambientale ed acustico. Ferri vecchi ed erugginiti lasciano i danni lungo la recinzione della stazione ed altro ancora. Tuonano i residenti che si rallegrano per gli interventi di riqualificazione della stazione ma non possono tollerare la scarsa attenzione verso disagi che vanno avanti da tempo. Come pure è necessario collegare meglio la stazione ferroviaria al centro storico e al resto della città, con un trasporto urbano migliore e con il ripristino dell'asfalto sul viale slittato per le avverse condizioni atmosferiche.